Credo che questo sia un tavolo, lo hanno definito un tavolo della pace, no? Io lo chiamo più che altro un tavolo di una nuova partenza, per non dire ripartenza. Mi auguro che ci sia un attestato di credibilità, in modo tale che qualunque cosa si decida, non sia solo il solito bla 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 bla, ma possa invece essere effettivamente un tavolo della ripartenza del calcio italiano. Perché sorprendersi? Io ho sempre parlato di innovazione, quindi evidentemente rappresentando un po' una novità nel panorama del calcio italiano, credo che Petrucci abbia voluto, con la mia convocazione, anche dare questo significato. Entra con lo spirito di ascoltare, di poter collaborare, di vedere quello che si deve fare per costruire qualcosa di meglio per il futuro. Ma questa svolta la deve avere l'Inter, la deve avere il tavolo, cerchiamo passo per passo di fare le cose. Io poi vengo a sentire cosa ha da dirci Petrucci, quindi dopo che ha parlato Petrucci vi potrò dire qualcosa quando esco. Però arriverà stretta di mano con Morano. Non so proprio di cosa si parla, magari uscendo ci capiremo un po' di più. Grazie. Mi aspetto cose positive, serenità, tranquillità, ragionamenti, non mi chiami causa voglio dire.